Ciao ragazzi, eccomi qui con il nuovo dipinto che vedete alla mia sinistra, si chiama Inespansione, l'ho appena terminato e adesso lo impacchetto affinché possa arrivare a destinazione. Potete seguire tutte le fasi dello sviluppo di questo dipinto sulla mia pagina Angelic Rainbow Art, così come quelle di ogni ritratto luminoso che finora ho realizzato e che continuerò a realizzare. Come potete vedere il ritratto di una mamma con la sua bimba molto speciale che si chiama Amma Gaia, un nome molto particolare che lei stessa ha portato, si tratta di due esseri meravigliosi molto connessi alla madre terra e all'amore che questo pianeta ha per tutti noi. Mi hanno portato in un viaggio straordinario, ricco di memorie antiche e di sentire molto profondo. Vi leggo il messaggio che mi è giunto per loro e magari è anche un po' per voi. Un seme viene piantato e un albero cresce dentro per permettere la vita e fuori per proteggerla. Sorelle in veste di madre e figlia danzano con lo spirito degli alberi giganti della terra, ancora vivi nella loro forma eterica. Cristalli il loro corpo e canti la loro essenza. Sole e stelle nelle mani, sia benedetta la vostra danza al servizio del cuore della terra per farlo cantare ancora una volta. Che ogni cuore in tutto l'universo possa udirlo e accoglierlo. Io vi ringrazio e invito a seguirmi sulla pagina Angelic Rainbow Heart così potete conoscere ogni mia creazione. Se questo video vi è piaciuto condividetelo e se anche voi volete un ritratto luminoso contattatemi. Sarò felice di darvi tutte le informazioni che cercate e di poterlo realizzare per voi. Ciao, buona vita! Ciao, buona vita!